Il paglio fortunatamente sopravvive a tutto e a tutti. Ho il privilegio di vederlo insieme a migliaia di persone dal vivo e poi c'è un sindaco che ha un'eredità importante, farà un bel lavoro, una bella squadra, però vogliamo restituire la città ai senesi. Prossimo step in Toscana? C'è un governatore molto nervoso e quindi gli auguro di godersi al meglio gli ultimi mesi di sua attività in Regione Toscana. Forse prenderà la residenza a Siena perché gli è piaciuta molto la città. Il ministro Pissi è di fronte alla viagoria del buono e effettivo governo. Il buono governo o c'è altri problemi? Il governo che fa e noi in un mese penso che qualcosa di buono l'abbiamo fatto, ne mancano tanti di mesi. Però chi ben comincia, come diceva la mia nonna, è a metà dell'opera. Abbiamo ben cominciato. Il Finanzial Times afferma che è peggio di Trump e una minaccia per l'Unione Europea. Ho la faccia di uno pericoloso minaccioso? Guarda, mi sono anche regolato la barba, non ho la giacca perché fai... No, noi vogliamo, anzi per assurdo, se passano le idee della Lega in tutta Europa, l'Europa si salva. Vuol dire tornare a mettere in centro il lavoro, il diritto al lavoro, il diritto alla pensione, il diritto alla vita, il diritto alla sicurezza controllando l'immigrazione. Se l'Europa va avanti come è andata in questi ultimi anni, si sfalda. L'abbiamo visto, i tedeschi contro i greci, i francesi contro gli spagnoli, i maltesi contro il resto del mondo. Quindi noi vogliamo un'Europa che faccia poche cose e le faccia bene. Il problema è il governo tedesco? Non metto becco in casa altrui. Lo mettono sempre in casa nostra. E lo so, appunto io faccio la differenza dei francesi e dei tedeschi, rispetto le scelte dei francesi e dei tedeschi, che il problema nasca da un'immigrazione fuori controllo, vuol dire che la Lega non sbagliava quando chiedeva di controllare chi entra e controllare chi esce. Ministro, ai giochi del Mediterraneo opprime le italiane? Bene, mi fa piacere per quelle quattro ragazze, spero di incontrarle il più possibile, però mi piaceva incontrare anche gli altri 150 che hanno vinto una medaglia. Non vorrei che qualcuno a sinistra scegliesse solo alcune medaglie in base al colore della pelle. E questo sarebbe razzismo. Io voglio fare i complimenti ai 150 che hanno vinto una medaglia nel nome dell'Italia, a prescindere dal colore della pelle. Ministro, quanto manca il buon governo del Mediterraneo? Bocca al lupo, sindaco. Oggi parlo solo di Siena, non del governo nazionale, dei tedeschi, dei francesi, quindi faccio in bocca al lupo. Il ministro è sempre stato presente al Monte dei Paschi, in Viale Mazzini, con le magliette. Ora cosa succede? L'impegno del governo era e rimane quello di risarcire coloro che sono stati truffati o derubati. Non ci metteremo 15 giorni, ma a questo vogliamo arrivare. E poi l'obiettivo mio, io ho chiesto al sindaco di far lavorare chi merita. Altri hanno messo le mani sulla città, sulle istituzioni, sullo sport, sugli ospedali, sulle banche. A me piacerebbe che lavorasse chi merita, a prescindere dai colori politici, anche nelle banche. Per il sindaco di Siena, filo diretto con Roma? Per tutti i sindaci. Il ministro dell'Interno ha a disposizione di 8.000 sindaci. Demossi al mio cellulare, però girerò il mio cellulare anche agli altri. Bocca al lupo. E poi c'è da accanto 3.000 persone. Capito chi è lì, no? Matteo! Ora accendo il microfono. Qual è la politica del suo ministero a proposito dei beni confiscati, tenendo presente che il 90% delle aziende non arriva alla confisca perché deperisce prima? E poi ci sono stati anche alcuni fenomeni veramente preoccupanti nella gestione dei beni confiscati alla mafia. La lotta alla mafia sarà una priorità mia e del governo. Mi piacerebbe alla fine del mio percorso essere ricordato come colui che più di altri ha combattuto con ogni mezzo necessario mafia Camorra e Drangheta. Ringrazio chi ha lavorato fino ad oggi, l'Agenzia dei beni sequestrati confiscati, vedremo di potenziarle, vedremo di essere più veloci, più rapidi, più efficienti perché patrimoni come queste possano essere rimessi a disposizione dei cittadini, non è possibile che si aspettino 25 anni prima di farlo per complicazioni normative, burocrazia e quant'altro, quindi spero di lasciarli in mutande perché certi signori li combatti solo sequestrandogli macchine, aziende, negozi, alberghi, ristoranti, conti correnti e quindi l'obiettivo è girare tutta Italia portandogli via tutto quello che gli può essere portato via, mettendo sul mercato quello che può essere messo sul mercato e coinvolgendo i sindaci, le regioni e gli enti locali per valorizzare tutto il resto. Due inchieste della Procura di Caltanissetta rivedono che ci sono anche i furbacchiotti dell'antimafia, quelli che approfittano, stiamo parlando di un giudice e di un imprenditore e sono due grosse inchieste in corso. Per me giustizia vuole dire ricordare Falcone Borsellino e giudice Livatino, quella è l'antimafia dei fatti che è costata la vita a qualche missionario della giustizia dello Stato e io vedrò di fare tanto, qualcuno l'antimafia la fa in maniera diversa, per caita di Dio, non sto qua a pontificare, però mi interessa essere qua nel cuore della Toscana Verde per ribadire a tutti gli italiani che la mafia non è più quella con la coppola e il fucile che girava per le contrade di Palermo, la mafia purtroppo è arrivata in tutta Italia, guarda i soldi, guarda le aziende, guarda gli alberghi, i negozi, i bar e i ristoranti e va combattuta e lo Stato è meglio della mafia, soprattutto per le aziende mi interessa rimetterle subito in circolo, tutelare e anzi allargare i posti di lavoro, ringrazio chi ha gestito questa azienda in questi anni perché è stato assolutamente eroico, però qua mi piacerebbe che girassero migliaia e migliaia di persone per vedere quanto è più forte lo Stato e quanto è più bello lo Stato rispetto alla mafia. Nel 2016 è stato fatto un protocollo di insiesa proprio sul sul Vignano, dal Ministero, la Regione, i Comuni, ripartirà da zero oppure procederà? Ho trovato tanti protocolli, tanti impegni, tante promesse in ufficio, mi piacerebbe passare ai fatti, superando l'ipocrisia, vendendo quello che vale la pena che sia venduto, valorizzando con gli enti locali quello che si può valorizzare, sindaci e regioni non hanno sti milioni di Euro da investire, però tutto quello che è ben impostato lo tuteleremo, ovviamente ci saranno delle normative da cambiare, ci saranno da correre, ci saranno da coinvolgere le associazioni, però il mio obiettivo è almeno una volta alla settimana di andare a presidiare, a rilanciare un bene sequestrato alla mafia in una parte d'Italia per restituirla ai cittadini. Difendere i confini e bloccare l'immigrazione clandestina è uno dei miei doveri e penso che siano partiti con buone prospettive e con ottimi risultati, stando ai numeri. Purtroppo mi sembra che gli scafisti e i trafficanti di esseri umani stiano provando gli ultimi colpi di coda, mettendo in mare su gommoni già sgompi o su barche senza motore le disperati che poi rischiano di affogare come purtroppo sta accadendo, sono agli sgoccioli, sappiano mafiosi e scafisti che in questo governo non c'hanno più business e quindi o cambiano mestiere o cambiano paese. Però Ministro, gli sbarchi sono in diminuzione, i morti sono in aumento nel mediterraneo centrale? I numeri dicono che siamo a meno 80% anche per il lavoro di chi c'era prima, che noi vediamo di rendere ancora più operativo. In questo momento nelle acque fra l'Italia e la Libia non ci sono navi che aiutano gli scafisti a fare il loro lavoro e quindi si sta diffondendo per l'Africa la voce che in Italia non ci si arriva più a gratis, comodamente e facilmente e quindi anche gli scafisti dovranno cambiare mestiere. Questi 400 morti in una settimana sono un prezzo molto alto da pagare, 400 su 1000 dall'inizio dell'anno. Se calcoliamo le migliaia e migliaia di morti degli anni scorsi sul fondo del mar Mediterraneo, perché ovvio che più ne partono più ne muoiono, il mio obiettivo è arrivare a zero, zero partenze e zero morti, non ci metteremo 15 giorni, però penso che sia ben chiaro a tutti che in Italia non ci si arriva più pagando questi delinquenti. Completamente soddisfatto del decreto dignità? Faccio i miei complimenti a Luigi Di Maio per il lavoro che ha portato in Consiglio dei Ministri e a riprovo del fatto che dalle parole questo governo passa i fatti, combattere il precariato tutelando l'interesse delle aziende è ovviamente una nostra priorità, se potessi aggiungere un desiderio a quello che è stato approvato in Consiglio dei Ministri su cui lavorerà il Parlamento, perché ovviamente il Parlamento ha tutto il dovere di farlo, è quello che riguarda aziende come queste, riguarda la stagionalità, riguarda la necessità di reintrodurre il sistema dei voucher per il turismo, per l'agricoltura, per i lavori stagionali, perché senza voucher si incentiva il lavoro nero, però Luigi Di Maio ha fatto un ottimo lavoro. Un'inchiesta dei Carabinieri ieri a Palermo ha dimostrato che Cosa Nostra è interessata ai migranti, soprattutto ai migranti che vengono dalla lotta balcanica, i cosiddetti scafisti di terra. L'inchiesta di Mafia Capitale ci ricorda nelle intercettazioni che gli immigrati rendono più della droga, quindi non è Salvini brutto e cattivo che si sveglia la mattina scoprendo il business dell'immigrazione granadistina, è così, è un business da almeno 5 miliardi di Euro all'anno per la cosiddetta assistenza solo quest'anno, che noi taglieremo, ridurremo, ridurremo i costi, questi 35 Euro al giorno, ridurremo i tempi che arrivano fino a 3 anni e quindi questi delinquenti dovranno fare affari in altra maniera, non più sulla pelle di questi esseri umani. Lei ha parlato di Toscana verde, rimane però lente regione toscana di colore rosso, è già partita la campagna elettorale. Il bello della democrazia è che decino i cittadini, hanno deciso i cittadini ad Arezzo, a Grossetto, a Pistoia, pochi giorni fa a Pisa, a Massa e a Siena, se ci aggiungiamo a Firenze la regione, però non spetta a me a decidere, saranno i toscani a decidere se la regione andrà a essere governata come è stata governata fino ad oggi, oppure se come tutte le altre città cambierà colore, però io il Ministro lo faccio a disposizione di tutti i sindaci, di tutti i governatori nei limiti del possibile, risolvendo i problemi laddove si possono risolvere. E poi la democrazia è bella perché votano i cittadini. La leader della Lega la vedremo più spesso in Toscana? Mi vedrete più spesso anche in questo agriturismo, sicuramente. Che impressione le ha fatto il palio del Ministro? Bellissimo, bellissimo, qualcuno si innervosiva perché ci mettevano tanto a partire, però è più bello. E poi anche qualche litigio nei limiti del possibile ci sta perché è il bello delle rivalità, dei campanili, è il bello dell'Italia, quindi sono contento per il Drago, non dico per chi tifavo, perché se no mi alieno le simpatie degli altri 16 e spero di tornarci il prima possibile, non so se ad agosto perché a ferroagosto il Ministro degli interni presidi al territorio. Però vedremo di rivederci presto. Però anche nella Canepi del Parlamento, in questo momento della maggioranza, ci sono dei fremiti. No, 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 c'è una sana competizione a chi fa meglio e quindi quando la competizione è a chi fa meglio fa solo del bene. Ministro a Livorno, il Sindaco ha detto che vorrebbe dare cittadinanza a un albanese che ha salvato due persone da un incendio. Ci sono delle regole, ci sono delle leggi, se questo corrisponde alle leggi vigenti fa bene a farlo. La prima persona che ho incontrato stamattina andando a bermi un caffè in piazza a Siena per vedere la piazza la mattina e non la sera, era un cittadino senegalese che stava andando a ritirare la cittadinanza, che mi ha chiesto una foto e che per me è un fratello. Quindi chi rispetta le regole è il benvenuto, scorciatoie non ne servono, i numeri dicono che lo YouSoli era l'ultima delle leggi necessarie, visto che l'Italia è il secondo paese al mondo, non in Europa, è il secondo paese al mondo per concessione di cittadinanza. Quindi i regali e scorciatoie non ne servono, il Sindaco di Livorno segue la normativa, se quello è permesso dalla normativa e viva quel cittadino. Ministro, una curiosità, tutta questa ironia sul web, sulle sue dati, la diverte? Mi diverte un sacco, è mio figlio che mi aggiorna sui meme che mi riguardano, papà questa l'hai vista e quindi diverte me, diverte lui, finché si tratta di ironia va bene, quando sfocia in qualcosa di diverso va meno bene, però sono il primo a ridere di me stesso.